8 arresti e 65 kg di marijuana confiscati stamattina all'alba e questo è il bilancio dell'operazione antidroga della Guardia di Finanza di Messina che ha scoperto un particolare traffico di sostanze stupefacenti tra la Sicilia, il Lazio e l'Abruzzo. Le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno permesso di ricostruire tutta la filiera del narcotraffico, dalla pianificazione degli acquisti al trasferimento di tre carichi di droga, circa 90 kg, dal valore complessivo di un milione di euro. Uno dei carichi era destinato a Pescara e due in Sicilia. Gli arrestati sarebbero riconducibili ai clan mafiosi Santa Paola Ercolano di Catania e Sparta di Messina. Il trasporto della merce avveniva in pieno lockdown, situazione che non ha creato problemi ai corrieri della droga. Lo stupefacente infatti viaggiava in tutta sicurezza a bordo di ambulanze private di una onlus messinese. Già a febbraio scorso un cane antidroga aveva fiutato 25 kg di marijuana su un'ambulanza, mentre questa era in procinto di imbarcarsi su un traghetto per attraversare lo stretto. Il mezzo d'emergenza era diretto a Pescara, atteso, secondo gli inquirenti, dagli esponenti del clan Spinelli del capoluogo Adriatico.